Controlli antidroga al dautico di Camogli, blizzi dei carabinieri coadiuvati dall'unità cinofila di Albenga per verificare la presenza di droga nell'ambito scolastico. I militari hanno fatto posare a terra 100 zaini e i cani hanno fatto la verifica soffermandosi dove si trovavano piccoli quantitativi di stupefacenti. Lutto a Chiavari per l'improvvisa scomparsa di Giovanni Nicola Dallosso, presidente dell'associazione Il Baleatico, ente che assiste ai bambini delle famiglie in difficoltà del Levante. La morte è avvenuta per le complicazioni che hanno seguito un intervento chirurgico programmato da tempo. Lascia la moglie Giorgia, la figlia Matilde, la sorella Guendalino con Paolo, il fratello Marco, i suoceri Gabriele e Mirko. Il rosario sarà recitato stasera alle 21 nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari. Domani alle 15 i funerali nella stessa chiesa. La famiglia al posto dei fiori suggerisce eventuali offerte alla parrocchia di Rupinaro che saranno devolute ad enti benefici locali. Sarà recuperata domenica a Lavagna, in corso Genova, la fiera dell'agricoltura rinviata lo scorso 3 marzo a causa delle condizioni meteo. Presenti oltre 120 banchi di produttori agricoli e merci varie. I presidenti di Anva Converse Centi Genova, Daniele Mignacca, ringrazia pubblicamente la Giunta Comunale e la Polizia Municipale di Lavagna per l'attenzione e l'impegno e la sensibilità dimostrati verso la nostra categoria nell'aver permesso lo svolgimento di questa manifestazione così sentita. Mignacca ha evidenziato come anche gli altri comuni del Tiguglio stiano riscoprendo mercati e fieri, posizionandoli in aree di pregio e ascoltando maggiormente le istanze e gli ambulanti. Con un'eccezione. L'auspicio, dice Mignacca, è quello di riuscire a instaurare un dialogo anche con la nuova amministrazione comunale di Sestri Levante, unica a non avere ancora risposto ai nostri inviti, essendo peraltro quella con più operatori del settore e residenti nel proprio territorio. A Santa Margherita Ligo nel permesso Sosta residenti diventa virtuale. Il comando di polizia locale non rilascia infatti più italiani che andranno in pensione il 31 maggio. Dal 1 giugno invece basterà la targa perché la polizia locale possa accertare il diritto di parcheggio negli stagli riservati ai residenti dalle 19 alle 7 e per usufruire dell'ora di sosta gratuita nei parcheggi blu a pagamento. Chi è in possesso di italiano lo può convertire seguendo le istruzioni riportate sul sito internet del comune di Santa Margherita Ligole. Chi ha bisogno di aiuto può rivolgersi all'apposito sportello che fino al 29 maggio sarà aperto al mercoledì dalle 9 a mezzogiorno. I requisiti per ottenere il permesso restano invariati. Nel 2023 sono state 745 le contravenzioni elevate per sosta in zona residenti da parte di soggetti non autorizzati. Il maltempo dei giorni scorsi aveva divelto la croce del campanile della chiesa di Verzi frazione di Lorsica in Fontana Buona che era rimasta incastrata nella scaletta e in bilico sul piazzale antistante Il Sagrato. Oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari, grazie anche all'uso dell'autoscala, l'hanno raggiunta, imbragata e portata a terra. Domani, sabato 13 aprile, il sindaco di Casalza Ligore Giovanni Stagnaro consegnerà ai neonati del paese Ravalpetronio le bambole pigotte in adesione al progetto per ogni pigotta adottata una vita salvata. La cerimonia inizierà alle 9.30 a Villa Sottanis. Con l'iniziativa di domani, il comune di Casalza andrà a definire la consegna anche ai bambini e bambine che non avevano ricevuto la pigotta negli anni della pandemia, per cui in questa occasione ne ha adottato in un colpo 200. Quando 20 anni or sono, lanciamo l'idea ai sindaci dei comuni Ligori di dare il benvenuto ai neonati, Casalza fu tra i primi ad aderire, ricorda il presidente regionale Unicef Franco Cirio. L'amministrazione comunale di Chiavari ha approvato la proposta presentata dalla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente relativa ad un progetto finalizzato alla tutela degli animali e controllo della popolazione felina. La proposta prevede che l'associazione collabori con l'ente per il censimento delle colonie feline, per la cattura dei gatti da sterilizzare, per il trasferimento presso l'ambulatorio ASRA appositamente attrezzato o in situazioni di emergenza presso l'ambulatorio dell'associazione Zampatesa di Genova. Sempre l'associazione si impegna inoltre alla soveglianza delle aree sgambamento cani e delle spiagge riservate a quest'ultimi, nonché ad effettuare campagne di sensibilizzazione. Il progetto copra il periodo che va da aprile a dicembre del 2026 e Palazzo Bianco riconosce all'associazione un contributo di 4.500 euro totali. Blizze dei carabinieri di Camogli coaudivati dall'unità cinofila di Albenga all'Istituto Nautico Cristoforo Colombo per verificare la presenza di droga nell'ambito scolastico. Dopo alcune segnalazioni sulla presenza alla stazione ferroviaria di Camogli e nei pressi della scuola di movimenti sospetti, questa mattina davanti all'entrata nel nautico, i carabinieri hanno fatto posare a terra 100 zaini e i cani hanno fatto la verifica soffermandosi dove si trovavano piccoli quantitativi di stupefacenti. Al termine sono stati stilati verbali ed inviato alla procura i risultati dei controlli per una valutazione e segnalazione di alcuni studenti.